Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quello di oggi sarà un breve recap di tutte le novità che sono state dette e fatte vedere al San Diego Comic Con per quanto riguarda il panel dei Marvel Studios. Ci sono state tante novità, alcune positive, altre un po' meno per quanto mi riguarda, ma andiamo per gradi. Direi di iniziare perché è tardi, comunque sono le 4 e mezza di mattina. E partiamo dal fatto che il panel è stato presentato da Kevin Feige e anche da Rob Delaney, ovvero l'attore che interpreta Peter all'interno dei film di Deadpool. anche Kevin Feige adora così tanto Peter come ogni Deadpool in ogni universo, da tanto da fargli presentare il panel dei Marvel Studios. Il primo film di cui hanno parlato è Captain America Brave New World, ovvero il prossimo, che arriverà a febbraio. È salito il cast sul palco, Anthony Mackie, Harrison Ford. Durante il panel è stato detto che avrebbero parlato solo di tre film, nello specifico è stato così, hanno parlato solo dei tre film che arriveranno il prossimo anno, però poi hanno detto anche altro. È stato detto che Captain America Brave New World riprenderà i temi di Captain America The Winter Soldier e dal trailer sembra così, io ho veramente molto interesse per questo film, spero che si riveli un film decente. Giancarlo Esposito all'interno del film interpreterà il re della Serpent Society, ovvero Sidewinder. L'Adamantio verrà introdotto in Terra 616 attraverso i Celestiali che saranno proprio costituiti da Adamantio, da questo nuovo metallo che ovviamente arriverà a costituire anche Wolverine, il nuovo Wolverine dell'MCU. È stata mostrata una scena molto interessante con protagonista Red Hulk che si trasforma, l'intera trasformazione del presidente Ross o il presidente Ford, direbbe Leslie Nielsen, in Red Hulk davanti alla Casa Bianca, che tra l'altro all'interno del film vorrà ricreare gli Avengers ed evitare una terza guerra mondiale. Si parla poi di Thunderbolts, il cast sale sul palco, è stato confermato che la squadra non prenderà il nome da Thunderbolt Ross, ovvero appunto Red Hulk. Sebastian Stan, The Winter Soldier, conferma che non sarà lui il protagonista del film, ovvero anche il capitano della squadra, bensì Florence più Jelena Belova. E al comico infine è stato mostrato un breve trailer di Thunderbolts. Sul palco è salito anche Lewis Pullman, che dovrebbe interpretare teoricamente Sentry all'interno di Thunderbolts, però è stato detto che il suo personaggio si chiama Bob. Ok. All'interno del trailer tra l'altro viene mostrata l'Avenger's Tower, dopo anni, e sembra che l'abbia acquistata proprio Valentina della Fontaine, che dovrebbe rivelarsi in teoria una dei villain del film, se non la main villain. Si passa poi a The Fantastic Four, che prende un nuovo titolo e un nuovo logo di conseguenza, ovvero The Fantastic Four First Steps, primi passi. Matt Shackman sale sul palco, non sale ancora il cast perché si pensava che il film dovesse iniziare le riprese lunedì, quindi era un po' improbabile la presenza degli attori, invece inizierà le riprese martedì e infatti il cast sale anche sul palco. Al comico ne è stato mostrato un esclusivo filmato dei personaggi, in cui sembra esserci anche la Future Foundation. Il film sarà ambientato in un universo alternativo, con un futuro retro anni 60, e questo lo si poteva un po' capire dalle immagini rilasciate. È stato mostrato uno sguardo a Galactus, interpretato da Ryle Finneson. Michael Giacchino comporrà la colonna sonora del film e, per me, è perfetto così. Sembra che all'interno di quel filmato esclusivo del San Diego Comic Con, girato in quattro terzi, quindi molto stile retro, siano state anticipate più o meno le loro origini da supereroi. Mark Ruffalo, finora conosciuto all'interno dell'MCU come Hulk, è entrato nel cast di The Fantastic Four per un ruolo vocale. E infine i Fantastici Quattro compariranno ufficialmente in Avengers 5. Prima di passare al succo, quello che ha fatto saltare tutti i fan all'interno della All-H, è stato confermato che Blade è stato rimandato a data da destinarsi. Chissà quando vedremo questo film, credo che lo cancelleranno a questo punto. No, non è vero, non sto scherzando, però l'idea di questo film esiste dal 2019, dal Comic Con del 2019. Andando avanti, Kevin Feige fa salire sul palco i fratelli russo, confermando ufficialmente, dopo diversi rumor, che saranno loro a dirigere anche i prossimi due film degli Avengers. Avengers 5 e Avengers Secret Wars. È stato confermato che anche il cast, non penso tutto naturalmente, ma anche il cast di Brave New World e Thunderballs saranno presenti in Avengers 5 e Avengers 6. È stato mostrato un nuovo logo di Avengers Secret Wars in arrivo a maggio 2027. Sinceramente questo arancione mi piace, meglio del grigio che era stato presentato tempo fa. E qui arriviamo forse alla cosa più sconvolgente, per me anche in negativo. Il palco della All-H viene invaso da dei figuranti con addosso dei costumi di Doctor Doom a simulare gli androidi del personaggio, mentre dietro compare il nuovo logo di Avengers 5, che non sarà più chiamato Kang Dynasty, perché il personaggio di Kang a quanto pare l'hanno voluto eliminare. Ovviamente il film adesso si chiamerà Avengers Doomsday, visti i figuranti vestiti da Doctor Doom. Doom arriverà a maggio 2026, le riprese inizieranno quindi il prossimo anno, come già anticipato qualche settimana fa, e a un certo punto tra i figuranti avanza una di queste comparse che si leva la maschera, ed è Robert Downey Jr., che interpreterà Victor Von Doom, o comunque Doctor Doom, all'interno di Doomsday e penso anche Secret Wars. E perché? Perché hanno fatto questa cosa? Io mi chiedo veramente perché. Era uscito il rumor, veramente. C'è la storia su Instagram, vi giuro che ho messo la storia con il nerd suit riportando il rumor, ma nella storia successiva ho subito scritto, spero che questo sia uno dei rumor falsi che girano online, perché è veramente una cacata. Sembrava veramente qualcosa di surreale, ma a quanto pare sì, è così. In realtà quel rumor riportava che non fosse realmente Victor Von Doom, ma una variante di Tony Stark da un altro universo, che è diventata Doctor Doom, potrebbe essere così. Però in generale per me è veramente un problema che questo personaggio sia interpretato da Robert Downey Jr. Non so se in futuro Victor Von Doom diventerà uno dei personaggi dell'MCU con il soft reboot che ci sarà dopo Secret Wars e le varie terre distrutte che si fonderanno, eccetera, eccetera, perché succederà questo. Però per quanto mi riguarda è veramente un problema. Già ci siamo giocati in qualche modo il nuovo Wolverine, perché, ok, con Logan finiva Hugh Jackman, invece con Deadpool e Wolverine abbiamo ripreso Hugh Jackman, quindi ritorna nella testa dei fan. E il nuovo Wolverine sono sicuro che non diventerà così amato quanto quello di Hugh Jackman, soprattutto a causa di Deadpool e Wolverine. Ma se facciamo la stessa cosa con Victor Von Doom, poverino l'attore che lo interpreterà in futuro, sempre se ci sarà un altro Doctor Doom. Magari chiudono qui, lo interpreterà solamente Robert Downey Jr. per non so per quale motivo, e basta, lì si chiude tutto. Poi ci sarà la multiverse saga, e via di mutanti, e via le mutande. Non hanno mostrato la solita timeline che di solito mostrano al San Diego Comic Con, però credo che arriverà per il D23, perché il prossimo mese ci sarà un altro evento, solo di Disney, a cui parteciperà ovviamente Kevin Feige con i Marvel Studios, in cui possibilmente verranno annunciate le serie, verrà mostrato qualcosina di Daredevil, le prossime serie che arriveranno, Ironheart e robe varie, e magari anche questa fatidica timeline che qui è mancata. Hanno contrabilanciato sicuramente con l'ultima parte del panel, però io non ho preso molto bene la notizia di Robert Downey Jr. come Doctor Doom, perché mi sembrava una cacata quel rumor, mi sembra soprattutto un'enorme cacata il fatto che sia fondato. A questo punto credo che la scelta di uno dei due, o di Robert Downey Jr. o dei fratelli russo, non sia stata casuale, credo che una delle due parti abbia espressamente chiesto di prendere l'altra parte per partecipare al progetto. Ai progetti, perché sono entrambi gli Avengers che arriveranno nel 2026 e nel 2027, forse non ho detto la data di Avengers Doomsday, ma arriverà a maggio 2026. In realtà, ora che ci penso l'ho detta, ma non fateci caso, sono le 4 e mezza, adesso forse le 5, no, è 43. Quindi comunque vi chiedo di farmi sapere la vostra con un commento qui sotto, io sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, soprattutto di questa news riguardo Robert Downey Jr. come Doomsday, come Doctor Doom. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Letterboxd e X. Su Instagram io tengo aggiornati tutti voi con la Nerdsuit, che è un format che faccio nelle storie, dove riporto qualsiasi cosa esca di news, rumor, leak e tanto altro, cinema, serie tv, fumetti, videogiochi, quel che è. E ovviamente pubblico diversi reel con diversi format, che ricarico ogni tanto, ma c'è anche qualcosa di originale e di esclusivo su TikTok. Su Letterboxd ci sono le mini recensioni e potete vedere cosa guardo, cosa non guardo. E in descrizione c'è comunque il link di Pampling, il sito di t-shirt, dove trovate tantissimi design, non solo per t-shirt, anche per calze, poster, tazze, zaini, chi più ne ha più ne metta c'è davvero tantissima roba e con il codice ilpensiero4 avrete un paio di calze gratis a scelta. E niente ragazzi, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao.